Ciao a tutti, io sono Franz e oggi, preparatevi, stiamo per provare un gioco che, guardando un po' in giro, è il gioco che fa salire veramente i nervi, per quanto ti fa sclerare. Siamo pronti, proviamo il primo livello, di Geometry Dash. E' proprio uno di quei livelli, è proprio uno di quei giochi, ecco, già cominciamo malissimo. Voglio vedere solo, ehi, proprio... Non ci credo, cazzo, non ci credo. Ma porca di una miseriaccia, ecco, talmente c'è lo sclero che ci hanno lasciato pure la pubblicità. Andiamo avanti con il gioco, perché... Vorrei riuscire a almeno... Porca di un... Ma... No, non è possibile. Adesso capisco perché lo chiamano il gioco dello sclero. No, io sarò pure negato in questo gioco. Niente. Non riesco ad andare oltre lì. E' sempre lì. Dai che ce la stiamo facendo, dai che ce la stiamo facendo. No! No, il 15% solamente. Già... Mi viene solamente la morte a pensarlo. Di riuscire ad andare ancora avanti. No, dai. Ragazzi, non è veramente possibile fare sto gioco. Questo non è un gioco passatempo. Questo è un gioco per diventare pazzi. E va bene. Guardate se... Io ci provo un'ultima volta. Vediamo dove arriviamo. Cioè, faccio un'ultima volta e poi provo a cambiare quadro, perché... Già questo... Niente. Guardate, lasciamo perdere. Torniamo al menu, cerchiamone un altro. Proviamo questo. Magari è un pelino più facile. No. Niente. Non riesco ad andare avanti quando ci sono da fare troppi salti. E' vero che per dispositivi Android è veramente difficile giocarci. Ma porca di una miseria. Ma dai, non è possibile. Io vorrei incontrare veramente... Il costruttore... L'inventore di questo gioco... E dirgli... Giocaci un po' tu. Così vedi quanto ci hai fatto sclerare a noi. L'avevo passato. Ragazzi, io provo un'altra volta. Niente. Devo saltare lì. Devo saltare. Salta. Ti ho detto salta. Salta. A fuori di urlare oggi... Basta ragazzi. Io cambio... Cambio quadro perché... Proviamo questo. Che cosa dovrei fare qua? No? No, aspettate. Io non ci sto capendo cosa devo... Cosa devo fare? Ah, ok. Ah, ok. Adesso che ho capito... Ho capito che anche questo è un altro quadro... Assurdo. Niente, ragazzi. Io cambio direttamente perché... Ho capito. Diciamo che la cosa più bella sono... Sono le musiche. Pubblicità, come al solito, piena. Ce la posso fare, ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ma porca miseria. Guardate. Veramente. È una cosa inconcepibile. Ma chi l'ha inventato sto gioco di me... Di... Eh, va bene. Guardate. Cambio. Provo a cambiare un altro livello perché... Proviamo questo. Beh, se... Ecco, stavo dicendo che sembra un po' più facile. Ce la farò, ce la farò, ce la farò. Basta. Basta. Guardate, ragazzi. È la prima e ultima volta che gioco a sto gioco. Un per cento, eh. Due per cento. Di questo passo, nel gioco di... Quattro, cinque giorni riuscirò a farlo. Ma va a quel paese, va. Questo è proprio arrabbiato. Jumper. Proviamolo. Oddio. Oddio. Diciamo che ho capito cosa bisogna fare, ma... Niente. Guardate. Proviamo quest'ultimo livello. Oddio. Che è successo? Niente. Sì, va bene, dai. Ma non dovrebbero esistere per i principianti, almeno qualcuno un po' più facile di livello. Niente. Cosa devo fare? Devo saltare? Non devo saltare. Niente. Guardate, ragazzi. Io vi dico che... Questo gioco... Adesso capisco perché tutti quanti... Escono fuori di testa. Riproviamo un attimo il primo livello. Voglio giusto vedere se... Cosa riusciamo a fare? Comunque... Sta musica è veramente intrippante, eh. Meglio la musica del gioco. Nooo. Ero convinto di farcela stavolta. Siamo partiti così bene. Mi sento che questa è la volta buona. Nooo. Mi hanno fatto l'un per cento in più. Allora, ragazzi. Concentrazione. Concentrazione. E partiamo. Dopo che ci siamo subiti, purtroppo, quest'altra pubblicità. No, perché è saltato due volte? Ragazzi, io faccio quest'ultimo, poi concludo. Sono due mattina, pittu. Qualcuno lavoro. Non ci credo. Adesso è diventata una questione di principio. Non è possibile non riuscire ad andare avanti. Io mi chiedo come alcuni youtuber riescono a superare questi livelli. Va, va, basta, guardate. Basta, io mi arrendo. Ragazzi, solo per la disperazione che ho subito. Spero che lasciate un bel like. Per adesso è tutto dal vostro Franz. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Bell'Android.